Le prime impressioni positive, poi è solo tre giorni che siamo in ritiro, si sta lavorando molto e avremo tempo e modo di conoscere e installare tutti i rapporti necessari. Da quello che so il direttore è qualche anno che comunque mi segue, questo era l'anno più giusto dopo il mio prestito alla Virtus, no io arrivo dalla Virtus però di proprietà del Cittadella ho perso un anno per la sistemazione della squalla, mi sono trovato svincolato ed eccomi qua insomma. Ho grande voglia di far bene, di ripartire dopo due anni difficili dove ho preso qualche battosta tra infortuni vari e quest'operazione che mi ha tenuto fuori molto tempo e ora sono carico e pronto a ripartire. So che le sue squadre sono molto determinate con grandi carichi di lavoro e poi sicuramente ho sentito dire che in attacco insomma di solito si va forte, mi auguro che sarà così anche per me quest'anno. Non ti parlo più su quest'anno, la mia intenzione è quella di dare molto a livello agonistico alla squadra poi sono un attaccante veloce, prediligo il gioco alle spalle insomma sulla profondità e poi insomma ecco questo dai. Beh guarda sì ho giocato, è bello marcare con lo stadio e soprattutto sono stati anni importanti per questa società e niente, io darò tutto me stesso per il campo e nient'altro ecco. Sì sì sicuramente è quello di essere costante perché negli ultimi due anni non lo sono stato e speriamo anche che quella rete inizi un po' a muoversi quindi spero di fare molti gol.